Buonasera, buonasera. Terminata la partita, finalmente la Wunder torna alla vittoria dopo la sua grande prestazione. Ci commenti questa partita? La partita l'ho vista alquanto facile questa sera, è un avversario molto facile da battere, abbiamo preso tre gol ingenuamente, purtroppo è andata così, però siamo riusciti a chiudere con il quarto gol firmato da me stesso, Fabrizio Dosone. Finalmente sono riuscito a fare un gol anch'io, tutti contenti e quindi speriamo di finire questo campionato in maniera decente, come tutti gli anni. Complimenti Dosone. Da ringrazio, arrivederci.